la tradizione al passo con la rivoluzione benvenuti nella landa degli evocatori la risposta è dentro di te 30 secondi alla generazione dei minion in azione non resterò con le mani in mano se Ionia cambia lo farò anche mai tenere il cambiamento nessuno metterà in dubbio la nostra decisione ora dimostriamo il nostro coraggio domina resistenza per domina un alleato è stato ucciso ho visto due vie e ne ho creata una pezza mai esitare abbiamo appreso tanto quanto abbiamo sofferto la risposta un nemico è stato ucciso doppia uccisione colpire con convinzione un alleato è stato ucciso non resterò con le mani in mano non 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 è con forza di volontà con forza di volontà con forza di volontà il un nemico è stato ucciso un allerato è stato ucciso ho visto due vie e ne ho creato un'azza la risposta è dentro non so non so Se Ionia cambia, lo farò anche. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 dobbiamo compiere le nostre concentrazione la tradizione fa il passo con la rivoluzione un alleato è stato ucciso leggendario doppia uccisione il nemico è stato facile è sceso un nemico cuore e mente come una cosa sola mai esitare mai esitare la ricostra attenzione concentrazione tra squadra di scuoto se io ne accanto, lo farò mai esitare l'atria non vedi non resterò Non resterò con le mani in mano. Concentrazione. Leggendarie. Doppia uccisione. Facile. Mago si fa un consiglio ucciso. E' un terzo. Facile. E' un terzo. Sì, è vero. La tua squadra ha distrutto un ineditore, cuore e mente come una cosa semplice. La tua squadra ha distrutto un ineditore, cuore e mente come una cosa semplice. La tua squadra ha distrutto un ineditore, cuore e mente come una cosa semplice. La tua squadra ha distrutto anche la tua squadra,iki e mente come una cosa semplice nella tua squadra. non le verbali. Tutto offrite l'unione della tua squadra. Una Iburu più la due gioco. Iscriviti al canale, se lo auguro non vale anche quello che cancissi, la tua squadra deve tutto metto un milione a camiglia la tua squadra deve essere un milione a camiglia